Consigliera Marcozzi, si parla di bandi regionali, voi avete qualcosa da ridire alla regione, in particolare al presidente D'Alfonso. Perché? Beh, è l'Abruzzo che ha qualcosa da ridire al presidente D'Alfonso, perché parliamo di fondi FESR ed FSE, una dotazione di 370 milioni di euro. Ad oggi sono stati pubblicati bandi per soli 46 milioni. Ricordo che il direttore generale della regione, quindi la regione, aveva promesso la pubblicazione entro il marzo 2017, quindi ci siamo, di bandi per almeno 186 milioni. Quindi siamo in forte ritardo, le promesse di una regione facile e veloce sono evidentemente andate in fumo. Quello che noi chiediamo è la pubblicazione immediata di tutti questi bandi per non perdere le risorse da parte dell'Europa. Grazie.